Onorevole Borghesi, perché la Lega Nord ha votato sì a questo decreto sui debiti della pubblica amministrazione? Innanzitutto per senso di responsabilità verso le nostre imprese che da troppo tempo sono in attesa dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Questo decreto, a nostro modo di vedere, è una boccata d'ossigeno che arriva finalmente alle imprese e che quindi sblocca i pagamenti della pubblica amministrazione. Questa è la motivazione principale. Dobbiamo dire che in maniera costruttiva ci siamo impegnati in commissione e in aula per modificare al meglio questo decreto. Diciamo che non è proprio il decreto ottimale per noi, ma è comunque un buon passo avanti. Il decreto effettivo infatti ha recepito un nostro emendamento relativo al patto di stabilità verticale, con il quale siamo riusciti a sbloccare altri 2 miliardi di euro per le imprese attraverso le regioni. E quindi questo è stato uno degli elementi qualificanti insieme al fatto che ci sarà una tempistica molto ma molto stretta per lo sblocco di questi fondi. Quindi nel complesso giudichiamo positivo questo decreto ed è per questo che abbiamo dato il nostro giudizio favorevole. Grazie.